Mi candido al Consiglio Comunale di Palermo per rinnovare un impegno con la cittadinanza e con la storia politica che mi ha contraddistinto in tutti questi anni. Palermo ha la necessità di essere riformata per tornare una città normale. Alleanza per l'Italia e i movimenti civici hanno fatto una lista che vuole dare un senso di partecipazione civica alla città. I professionisti, imprenditori, liberi studenti, casalinghi stanno lavorando insieme a noi per dare un contributo alla città. Una Palermo nuova con un organo, il Consiglio Comunale, che non ha vissuto negli ultimi anni una luce che merita la città. Una città che è stata purtroppo distrutta nella sua composizione e lacerata in tutto il suo tessuto. Va ricostruito questo percorso e io credo che il Consiglio Comunale abbia una grande responsabilità e deve avere uomini e donne che siano capaci di poter rappresentare gli interessi e i diritti dei cittadini. Dobbiamo ricostruire un tessuto che parta dalla bellezza interiore dell'uomo, che porti valori etici, valori veri all'interno dell'amministrazione. La città non è soltanto un sindaco e la sua giunta. La città è un sindaco, ma ancora di più il suo Consiglio Comunale, che rappresenta i veri interessi della città. Un organo che deve controllare, che deve indirizzare e che deve dare il senso all'azione di un sindaco e dei suoi assessori. Per questo motivo, Allianza per l'Italia e Movimenti Civici hanno costruito questo impegno e sono pronti a dare il loro contributo. Personalmente, per quanto mi riguarda, ho deciso di fare questo passaggio perché sento la responsabilità da cittadino, ma anche da politico che ha ricoperto questo ruolo tanti anni fa, di dare un contributo fattivo, forte e passionale al risorgimento di Palermo. Palermo ha la necessità di diventare nuovamente una città normale, una città che con le sue bellezze possa attrarre l'attenzione di quanti hanno voglia di investire per ridare uno slancio all'occupazione, uno slancio alla nuova città che noi pensiamo possa essere migliore, possa essere più a misura d'uomo, più a misura dei bisogni di Palermo. Una città che deve avere necessariamente una nuova classe dirigente che sappia raccogliere e trasformare in atti concreti i bisogni dei cittadini. Questo è quello che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda è l'impegno che stiamo mettendo perché i cittadini ci possano scegliere. A tutti quanti dico che abbiamo il dovere in libertà, in assoluta piena coscienza di scegliere il meglio per la città. Per troppo tempo siamo stati gestiti e siamo stati guidati da persone che non hanno avuto assolutamente questo interesse. Un consiglio comunale uscente che non è riuscito in 5 anni a produrre atti concreti, veri, forti perché Palermo potesse avere il posto che merita nel panorama regionale e nazionale. La quinta città d'Italia è oggi bistrattata, la quinta città d'Italia è oggi senza direzione, la quinta città d'Italia è oggi senza, parafrasando alcuni interventi che fanno male da parte di esterni, la reputano la città l'ultima delle città e purtroppo anche i dati, gli indicatori le danno a questo. Abbiamo la necessità di farla risorgere e farla tornare alla sua normalità, dobbiamo recuperare la costa, le borgate, le attività e la scuola per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli anziani. C'è tanto da fare, ma fondamentalmente c'è la necessità di avere un impegno, c'è la necessità di avere donne e uomini capaci di essere all'altezza di questo impegno. Per quanto mi riguarda, nel caso in cui sarò eletto, questo sarà il mio intervento nella città.